Buongiorno e benvenuti oggi a questa lezione sul problema della previsione in ambito medico-sanitario. Innanzitutto vorrei ringraziare i colleghi dell'Università Politecnica delle Marche, il professor Giovanni Rinaldi, per avermi invitato oggi a incontrarvi virtualmente. E' giusto che io inizi dal presentarmi. Chi sono? Sono il dottor Marco Manca, sono un medico di formazione e ho lavorato in passato per università straniere, come l'Università di Maastricht, per l'Organizzazione Europea di Fisica Nucleare, il CERN di Ginevra. E sono presidente di una fondazione di ricerca olandese, Simpuls. Oggi parleremo di previsione. Sembra banale chiedersi perché voler fare delle previsioni, anche perché in questi giorni il meteo ha messo a dura prova le nostre capacità organizzative. Ma è un'ambizione che accompagna l'uomo dall'epoca paleolitica, crediamo. D'altronde la necessità di prevedere le proprie attività in risposta ai cicli della natura ci ha sempre accompagnati. E allora abbiamo bisogno di comprendere le nostre possibilità future. Abbiamo bisogno di capire come evolverà l'ecosistema in cui operiamo, per poter adattarci e apprendere nuove skill o modificare la nostra organizzazione. Abbiamo sicuramente la necessità di rispondere alle situazioni critiche. Probabilmente più importante di tutti, tra le nostre ambizioni, il nostro desiderio di apprendere in che modo influire sul cambiamento della situazione verso il futuro. E perché se ne parla in medicina? In medicina se ne parla perché sicuramente avrete sentito tutti parlare di diagnosi e di prognosi. Nonostante la diagnosi sia l'attività, il termine a cui più popolarmente ci si riferisce, è la prognosi ciò su cui si fonda l'atto medico. La diagnosi consiste in un processo di inferenza, durante il quale, analizzando segni, sintomi e evidenze prodotte da certamenti strumentali e le conoscenze pregresse del medico e del paziente, si giunge a formulare un'ipotesi circa i meccanismi che sottendono lo stato di malattia o di sofferenza dell'individuo. La prognosi invece è il processo di predizione dell'evoluzione del quadro clinico, è il motivo per cui il paziente si rivolge al medico, al sistema sanitario. Si cerca di prevedere se l'evoluzione sarà positiva o negativa, quanto rapida sarà e ovviamente è ciò su cui poi si interviene nell'atto di cura. E' importante sottolineare fin d'ora che per quanto l'atto della diagnosi informi la prognosi, non è possibile trasferire uno ad uno, proiettare la decisione dell'iter diagnostico sulla prognosi. Infatti esiste un cambio di registro epistemologico nell'operazione in cui, dalla identificazione dei meccanismi in gioco nella definizione della condizione dell'individuo, ci si muove alla decisione delle azioni tramite cui intervenire e modificare il corso dello sviluppo del quadro clinico. Questo perché esistono rischi secondari alle decisioni che verranno prese, esistono vulnerabilità non strettamente cliniche che vanno prese in considerazione, e il più delle volte non è possibile intervenire semplicemente ripristinando il meccanismo che sottenda la patologia alla sua normalità, poiché in realtà un essere umano è un sistema biologico complesso e ha una sua isteresi, non è semplicemente possibile cancellare una condizione e ritornare indietro nel tempo. Questo è estremamente importante perché vedremo in avanti l'attività della previsione è notevolmente più complicata della diagnosi, dell'inferenza. Ma partiamo dal considerare alcune attività che caratterizzano la previsione. essenzialmente si deve partire da una qualche evidenza, che noi chiameremo i dati, e in base a questa evidenza si devono formulare alcune ipotesi di lavoro, delle congetture, tramite le quali operativamente si procede a stimare la distanza da modelli accettati di patologia. Quanta confidenza possiamo avere in questa attività? E' difficile dirlo per la medicina tutta, esistono più di 30.000 patologie, però possiamo cercare di stimare la precisione dell'epistemologia umana, osservando l'attività, ad esempio, dei ricercatori. Si fanno da tempo, sono stati pubblicati diverse esperienze, in questo senso si fanno da tempo dei test, in cui si offrono dei dataset ben documentati a squadre di ricercatori competitive, chiedendo loro di offrire la loro migliore interpretazione dei dati forniti. Quello presentato nella diapositiva che vi sto mostrando è stato pubblicato nell'ottobre del 2022, quindi non è lontanissimo nel tempo. 161 ricercatori divisi in 73 squadre hanno analizzato lo stesso dataset e hanno fornito delle interpretazioni estremamente differenti, nonostante fossero partiti da informazioni simili e dagli stessi dati. La cosa più importante è che gli autori riscontrano che più del 95% della variabilità nei risultati numerici non è spiegata nemmeno dopo aver analizzato il procedimento decisionale delle squadre. Esiste quindi una ampia negoziabilità dei procedimenti con cui vengono interpretate le evidenze. E questa non è una novità, avrete sicuramente tutti visto questa anatra in passato. O è un coniglio. Ci sono tantissimi esempi pedagogici del rapporto difficoltoso dei dati e della statistica. Cos'hanno, secondo voi, in comune tutti questi grafici? Tutte queste distribuzioni? Vi do 5 secondi per pensarci su. Credo siano trascorsi. Bene. Hanno tutti quanti le stesse misure di tendenza centrale e di deviazione standard di questo bel dinosauro. Un ulteriore fattore che complica l'epistemologia della nostra esplorazione della realtà è che i dati, al contrario di essere quelle grandezze oggettive che spesso siamo portati a immaginare, sono in realtà il mero risultato di una catena di decisioni a monte. Il motivo per cui una certa cosa sia stata misurata con un certo strumento in un certo momento si porta dietro un importante valore nella definizione di come verrà interpretato quella che noi poi chiamiamo evidenza. e ovviamente una catena decisionale porta con sé una sua memoria, una sua esteresi e la nostra stessa azione di scegliere cosa misurare di misurarlo in un certo ordine porta ad avere una propensione per certe risposte. Ma mettiamo da parte temporaneamente queste sfide, queste problematiche più filosofiche se vogliamo e dedichiamoci alla sfida della previsione in clinica più specificamente. quanti di voi abbiamo avuto a che fare con l'ambito medico saranno già avvezzi a queste carte del rischio. Questo è un esempio classico, una carta del rischio cardiovascolare che cerca di collegare i livelli di pressione arteriosa e di concentrazione del colesterolo nel sangue con il rischio di eventi avversi cardiovascolari. i colori sono facilmente interpretabili ritengo. Questo tipo di approccio è stato estremamente di successo se pensate ai passi avanti che si sono fatti in medicina preventiva dagli anni 50-70 ad oggi. Tra l'altro questo tipo di strumenti ci fornisce la possibilità di stratificare la popolazione e di renderci conto di quali siano i bisogni di prevenzione della popolazione. Siamo in grado di identificare quanti eventi dobbiamo attenderci nell'arco dei 5-10 anni successivi. Siamo perfino in grado di identificare in quale strato, in quale gruppo della popolazione è più probabile che questi avvengano e cercare di fare degli interventi mirati di igiene e di prevenzione sanitaria che rispondano a questa predizione e che cerchino di modificarla. Questo approccio però ha raggiunto un suo limite ed è da anni ormai che la comunità cerca di discutere dell'implementazione di strumenti differenti inclusi chiaramente il machine learning se ne parla da prima del 2004 che io abbia memoria e probabilmente anche da prima. Alcuni di questi limiti sono dei limiti comuni agli approcci legati al rischio in una previsione non si può essere ovviamente sicuri al 100% ci si esprime in termini di scenari e di rischi e qualsiasi intervento è un intervento di mitigazione del rischio gli interventi di mitigazione del rischio in medicina come in qualsiasi altro ambito come in finanza come in sicurezza informatica si portano con sé altre altre forme di rischio oltre al rischio primario innanzitutto il rischio residuo cioè quel rischio che è comune che rimanga libero tra virgolette nonostante le misure di mitigazione messe in atto in medicina anche se questo schema che si riferisce più alla finanza dice che che la questione possa dipendere dal caso in medicina in realtà il rischio residuo è un rischio su cui si intende agire perché sono vite umane e ovviamente è necessario quello che si chiama un contingency plan qui si fa l'esempio della conclusione in cui io vi sto offrendo la lezione a distanza e non in presenza viste le condizioni climatiche generali questo è un contingency plan sarei potuto venire la situazione è avversa o uno strumento secondario per poter comunque raggiungervi in medicina questo potrebbe essere una ulteriore terapia in aggiunta per modificare un fattore di rischio in più presente nell'individuo ma anche l'educazione al riconoscimento di sintomi precoci e l'educazione dei caregiver familiari nella risposta rapida all'eventuale presentazione di un esito clinico e poi ci sono i rischi secondari i rischi secondari sono quelli che derivano dal fatto che si sia fatto che si sia fatto un intervento nulla che modifichi un sistema complesso è completamente scevro da conseguenze alcune di queste conseguenze possono essere indesiderabili possono essere considerate avverse qui si fa l'esempio di qualcuno che metta una trappola per animali nel giardino e invece veda uno dei suoi parenti cadervi vittima ma in medicina non è difficile pensare a tantissimi effetti avversi dovuti ai farmaci che costringono a volte all'interruzione della terapia e solo raramente per fortuna alla necessità di intervenire medicamente rapidamente per risolvere il problema clinico purtroppo questo questo ci dice che uno strumento di stratificazione è abbastanza lontano dalla capacità di fare una medicina veramente personalizzata quindi se il nostro potere di previsione è non indifferente grazie agli strumenti acquisiti nel corso degli ultimi 70 anni diciamo ci è anche terribilmente chiaro che ci sono limiti intrinseci al metodo che stiamo adottando un altro limite importante e di cui avrete sicuramente tutti sentito parlare quantomeno perché a volte è anche abusato la crisi finanziaria della crisi delle banche del 2008 gli eventi climatici il cigno nero il cigno nero per sua definizione è un evento estremamente raro un evento che oltre ad essere estremamente raro ha la potenzialità di avere un impatto molto importante e che è relativamente facile spiegarsi guardando all'indietro alcuni eventi sono effettivamente cigni neri una caratteristica del cigno nero è di realizzarsi in sistemi dinamici che generino probabilità distribuzioni di probabilità esponenziali o comunque a code larghe un problema molto frequente è che la maggior parte degli approcci biomedici alla probabilità si basano su presunzione di normalità o di gaussianità che dir si voglia a volte anche basandosi su estrapolazioni non proprio al 100% azzeccate delle proprietà del sampling e questo porta a una sottostima della probabilità di eventi importanti che li fa apparire come cigni neri perché non previsti dal metodo di previsione ma che non ne fa automaticamente dei cigni neri semplicemente perché in realtà si stava usando il modello sbagliato ciò detto è importante sapere che anche nella migliore delle gestioni dei rischi e della previsione esisteranno sempre degli eventi che pur essendo a molto bassa probabilità si possono realizzare e per i quali è difficile prepararsi seguendo una strategia di ottimizzazione rispetto alla propria previsione si deve invece seguire una strategia di mitigazione del rischio estremo di ciò che è improbabile quindi si deve rinunciare in parte all'ottimizzazione questo è un argomento molto importante perché purtroppo è molto sottovalutato nelle conversazioni che riguardano gli investimenti sul sistema sanitario i cigni neri ci portano a riflettere su uno dei limiti delle previsioni in ambito clinico sanitario per cui siamo molto bravi a parlare di popolazioni ma come vi dicevo non siamo bravissimi a parlare del rischio degli individui e questo è il problema della ergodicità ovvero della non ergodicità dell'esperienza umana ma della ergodicità dei metodi statistici di solito utilizzati per sviluppare i modelli di previsione e i modelli di rischio l'ergodicità può essere definita in vari modi in ambito fisico-matematico quella che la definizione che è rilevante per l'ambito clinico è che un sistema ergodico è un sistema in cui la media sulla popolazione e la media sul tempo coincidono mentre un sistema è non ergodico quando la media sulla popolazione e la media nel tempo divergono in questi grafici che sono tratti da un articolo comparso su scientific report anche questo l'anno scorso vedete due esempi di questi sistemi il sistema ergodico qui si tratta di modelli chiamiamoli finanziari sono molto molto semplificati il sistema ergodico sulla sinistra è dimostrato da un gioco additivo in cui la probabilità di vincere o perdere è legata a un'operazione di addizione o sottrazione mentre il sistema non ergodico sulla destra è rappresentato da un sistema moltiplicativo in cui la probabilità di perdere o vincere è legata all'azione di moltiplicare o dividere il proprio capitale come vedete entrambi manifestano una tendenza alla crescita del capitale complessivo della popolazione simulata la linea in evidenza nera ma nella nello scenario non ergodico esiste una perdita per la grande maggioranza degli individui questa cosa sembra controintuitiva e in realtà si può spiegare relativamente facilmente pensiamo a una roulette russa in una roulette russa se avessimo un sistema completamente ergodico alla fine del gioco avremmo i 5 sesti delle persone molto soddisfatte della propria esperienza il motivo per cui avremmo un guadagno netto di tutti quanti è che in una media di popolazione la morte è come se non esistesse gli eventi si continuano a contare perché stiamo calcolando tutto il gruppo il rischio di tutto il gruppo quando invece andiamo a guardare la media nel tempo chiaramente andiamo perdendo tutti gli individui che vanno in rovina molto presto chi va in rovina non giocherà più e quindi non contribuirà più all'andamento della definiamola in questo caso riferendoci ai grafici precedenti della ricchezza del del nostro gruppo pur essendo stato chiaramente un avendo costituito chiaramente un esito estremamente importante in medicina è l'esito più importante quello che noi stiamo cercando di modulare di rallentare di ritardare il più a lungo possibile è molto interessante che esistano dei metodi alternativi ai metodi statistici che usiamo noi in finanza per esempio si utilizzano le simulazioni di Monte Carlo per calcolare il il rischio di rovina in questi grafici forse si vede un po' meglio vedete sul grafico nell'angolo in alto a sinistra come gli individui contribuissero a quel apparente arricchimento nonostante sul grafico la maggior parte della popolazione esistesse impoverendo perché c'erano alcuni eventi eccezionali di alcuni individui che si arricchivano vincendo cifre molto importanti e portavano in alto la media che come sapete è molto sensibile ai valori estremi mentre tutto il resto della popolazione andava lentamente in rovina utilizzando i modelli di monte carlo è possibile calcolarsi il rischio di rovina rispetto a un certo investimento di partenza è un certo è una certa strategia di investimento ed è anche possibile calcolare quale sia il rischio di individui che partano con capitali diversi la posizione diventa importante in un sistema non ergodico e questo spiega anche per quale motivo sì in una popolazione ad alto rischio ci sono più eventi chiaramente non tutti avranno gli eventi sincronizzati tra l'altro non tutti avranno eventi molti faranno degli interventi di prevenzione tra virgolette poco di scarso valore perché voglio dire abbiamo tutti visto foto di Churchill ben pasciuto fumatore di sigari amante del cognac che però è vissuto ben al di là dell'aspettativa di vita media esistono delle strategie accessorie per per cercare di migliorare la nostra la nostra capacità di predizione e questo ci riconduce a una delle prime diapositive in cui vi parlavo di diagnosi e prognosi è l'inferenza causale qui vedete Judea Perl il padre dell'inferenza causale come metodo utilizzando i grafici aciclici diretti e per quale motivo l'inferenza causale migliora la capacità di predizione perché fornendoci una introspezione del meccanismo tramite cui il rischio si realizza permette di andare a valutare quanto forte sia caso per caso di andare a profilare il meccanismo con cui il rischio si sta sta venendo in essere e permette anche di avere una più o meno profonda informazione a seconda di quanto ben dettagliato sia il modello causale che si è riuscito a estrapolare una più o meno profonda visione di quali sono le possibili strategie di mitigazione con la massima efficacia nel caso specifico e quindi la diagnosi non è strettamente l'atto per cui ci si rivolge al medico perché si vuole modificare la prognosi ma ecco perché la diagnosi è così importante oggi perché ci permette di migliorare la nostra predizione e ciò non di meno resta il quel che vi dicevo prima la persona è persona al di là della propria componente biologica in Italia nei paesi democratici esiste una libertà di scelta che riguarda anche le cure anche se è stata messa in discussione in tempi recenti per ragioni di strettamente solo per ragioni di salute pubblica e di beneficio della comunità per cui un individuo potrebbe voler accedere non alla miglior cura possibile ma delle cure second best nel desiderio di mitigare alcuni rischi specifici che gli stiano particolarmente a cuore pur ottenendo in quel modo una gestione del proprio rischio subottimale subottimale dal punto di vista del del medico dal punto di vista freddo del della gestione del rischio che si stava modellizzando è chiaro che appunto è un trade off riguardo all'aspettativa generale dell'esistenza ricordo una battuta che credo fosse fatta da Ruttazzi pur non essendo una sua battuta originale se ricordo in cui scherzosamente diceva non posso preoccuparmi di quello che dice il mio cardiologo guido troppo veloce ciò che è importante è comprendere che l'attività di previsione è un'attività estremamente importante non solo per le ragioni intuitive tutti quanti noi vorremmo sapere quel che sta avvenendo dietro l'angolo per poter rispondere in modo estremamente efficace chiaramente oppure tutti noi come in ritorno al futuro vorremmo avere il libretto delle vittorie dell'ippodromo per arricchirci e rilassarci ma al di là di questo è una è un'attività estremamente importante perché è l'attività di conoscenza della realtà tramite la quale noi possiamo ottenere una falsificazione ed espandere ulteriormente la nostra conoscenza in inferenza quando cerchiamo di completare il quadro di ciò che già abbiamo misurato e di farci un'idea meccanicistica o meno del sistema con cui stiamo interagendo non è possibile avere un riscontro la mera inferenza il più delle volte ci porta a perfezionare un sistema autoreferenzialmente è la previsione l'atto che ci permette di andare a cercare un riscontro e quindi di migliorare il nostro modo di comprendere la realtà e questo è molto importante anche e soprattutto in attività clinica laddove il nostro obiettivo non è risolto in un singolo atto ma è una relazione che accompagna i nostri pazienti i cittadini nel corso delle loro esistenze e perfino l'errore chiamato errore tra virgolette quindi in buona fede avendo fatto tutto il possibile in assenza di negligenza è semplicemente parte di una uno spettro di conseguenze dell'incertezza che gestiamo e la previsione diventa parte di una strategia di mitigazione rispetto a questa incertezza in cui noi continuiamo ad apprendere assieme a lui spero di non avervi annoiato vi proporrei di prendere una pausa prima di passare all'argomento successivo grazie